Musica Salerno, busta sospetta sotto casa del presidente De Luca, allarme di entrato. Covid-19, cresce il numero dei positivi anche nel Golfo di Policasso, zona gialla perché non attendibili i dati sulla pressione sugli ospedali campani. Campania De Luca conferma la didattica a distanza e il blocco della mobilità interprovinciale. Buon abitacolo, l'amministrazione comunale incontra i commercianti. Agenda politica, anche la politica contagiata dal Covid, nessuno è immune, le elezioni provinciali a marzo ma i cittadini non votano. Buonasera, bentrovati con il nostro appuntamento con l'informazione di Uno News. In apertura parliamo del caso di questa mattina a Salerno quando una busta di plastica bianca da cui fuoriusciva un cavo elettrico era appoggiata al portone del condominio dove risiede il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Si è pensato ad un pacco bomba, fortunatamente era un falso allarme. Vediamo. Una busta di plastica bianca da cui fuoriusciva un cavo elettrico appoggiata al portone del condominio dove risiede Vincenzo De Luca e il presidente della regione Campania in via Valerio Raspro nel rione Carmine a Salerno. Data la circostanza di potenziale rischio è stato applicato subito un immediato protocollo di sicurezza per cinturare l'aria con l'ausilio dei Vigili d'Ul Fuoco, ma sul posto dopo pochi minuti sono giunti anche i militari e artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno che, al termine di valutazione, hanno deciso di far brillare l'oggetto a centro strada. Il contenuto della busta è risultato essere una borsa termica dell'acqua calda, motivo per il quale la normale circolazione è stata immediatamente ripristinata. L'episodio naturalmente non è passato inosservato nel popoloso quartiere, tantissime persone hanno notato il movimento di forze dell'ordine e la notizia si è sparsa velocemente in città. La zona dove si trova l'abitazione del presidente della regione Campania viene costantemente tenuta d'occhio. Non meno di una settimana fa, durante una protesta spontanea nata in piazza Mendola, un gruppo di faci norosi si portarono proprio sotto l'abitazione del governatore ma tra gli episodi più clamorosi degli scorsi anni anche il ritrovamento di una testa di maiale decapitata. E parliamo ora di Covid. Scende il numero dei contagi in Campania rispetto ai dati di mercoledì e da oltre 4.100 positivi scende a 3.888, un numero che resta comunque alto nonostante la campagna sia stata indicata come zona a bassa criticità. Intanto anche nel Golfo di Policastro, poco toccato nella prima ondata della primavera scorsa, fa registrare un aumento dei casi di positività come accade del resto anche nel Vallo di Diano. Vediamo. Continua la conta dei casi di contagio da Covid-19 in Campania. 3.888 nuovi casi di positività accertati ieri, di cui 3.678 non presentano alcun sintomo, mentre sono 210 soggetti risultati positivi manifestando sintomi. Nella conta della regione anche i nuovi casi nel Vallo di Diano e Golfo di Policastro, quest'ultimo poco interessato dai casi Covid nella prima ondata della primavera, mentre oggi ne conta quasi 100. Il comune di Sapri è il più colpito con ben 50 positivi ed è sotto esame dell'unità di crisi regionale che potrebbe decidere di ricorrere a ordinanze regionali per l'istituzione della zona russa. Sono 25 casi di positività da SARS-CoV-2 invece a Santa Marina di Policastro, mentre a Vibonati e Spani se ne contano rispettivamente 10 e 9. Tutti in isolamento e per tutti è stata già ricostruita la mappa dei contatti. In aumento anche i casi di positività nel Vallo di Diano, annunciati dai diversi sindaci del comprensorio che giornalmente presentano un report della situazione. A Sanza la speranza del sindaco non si è purtroppo avverata. Nella serata di ieri l'annuncio di un caso di positività è riscontrato tra i cittadini. Il sindaco si è affrettato a tranquillizzare la comunità assicurando la messa in isolamento della persona risultata positiva già da diversi giorni e sulle sue condizioni di salute che risultano buone ed è costantemente monitorata. Anche il sindaco di San Rufo ha annunciato la positività di un concittadino che già posto in isolamento fiduciario non presenta sintomi da Covid e sta bene. A Montesano, a fronte di un nuovo accertato caso di positività al Covid, si registra anche una nuova guarigione con l'esito negativo del tampone di verifica. I casi di positività si allargano in Campania, mentre la regione viene però indicata come a media o bassa criticità. Il Ministero della Salute, sulla base dei dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità, ha infatti indicato la Campania come zona gialla, a differenza di quanto accade invece in regioni come la Calabria, che seppur con quasi 50.000 casi meno, 54.000 per la Campania, 5.000 per la Calabria, viene indicata come zona rossa ad alto rischio contagio. Secondo quanto si apprende, tale classificazione non è stata assunta sulla base dell'indice RT che indica la velocità di contagio, ma piuttosto sulla base della pressione sugli ospedali, che nella nostra regione non risulterebbe critica. Per l'Istituto Superiore della Sanità i dati ricevuti in tal senso non risultano essere attendibili o comunque sono incompleti. Attendono quindi un aggiornamento in merito alla situazione degli ospedali e dentro la prossima settimana la valutazione potrebbe anche cambiare. Dopo il caso accertato di ieri della donna a Sanza, oggi il sindaco Vittorio Esposito ha reso nota la notizia della positività anche di un uomo asintomatico il cui contagio non sarebbe riconducibile al primo caso. Abbiamo avuto notizia, scrive il primo cittadino, che il nostro concittadino è risultato positivo al tampone effettuato nei giorni scorsi dall'ASL di Salerno. L'uomo è in buone condizioni di salute, siamo a lavoro con l'ASL per la ricostruzione della rete e dei tracciamenti. Invito tutti al rigoroso rispetto delle norme di distanziamento e di igienizzazione indossando sempre la mascherina. Nel mentre, conclude il sindaco, facciamo i migliori auguri di pronta guarigione ai nostri concittadini. Andiamo avanti, la campagna. In campagna sono stati confermati lo stop alla didattica in presenza a scuola e della mobilità fra le regioni. Rispetto all'ultimo DPCM che inquadra la campagna tra le zone gialle, il presidente De Luca nutre forti perplessità. Vediamo. Il presidente della regione campagna Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza numero 89 con cui vengono confermate in relazione al nuovo DPCM le misure adottate nelle scorse settimane sull'attività scolastica e sulla mobilità. Quindi da oggi fino al 14 novembre resta la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole dall'infanzia alle superiori, il blocco della mobilità interprovinciale già vigente e la fascia oraria tra le 6 e le 8 e 30 in cui è consentito fare jogging. Per il resto valgono le prescrizioni contenute nell'ultimo DPCM che inquadra la campagna tra le zone gialle, una condizione in visa al presidente De Luca. Rimango convinto, commentava ieri, della necessità di misure nazionali unitarie a fronte di una diffusione sostanzialmente omogenea del contagio. Per quello che ci riguarda sarebbe fuori luogo ogni atteggiamento di autoconsolazione e di rilassamento. La situazione è pesante e si rischia ora un paradosso che chi è in zona rossa o arancione fra un mese riapre tutte le attività, avendo frenato il contagio e chi oggi chiude gli occhi dovrà bloccare tutto nel periodo natalizio. Deve essere chiaro che da oggi in poi saranno decisivi i comportamenti dei concittadini. Invito i sindaci a predisporre la chiusura del lungomare di parte dei centri storici nei fini settimana e invito a predisporre attività di controllo e di sanzione per chi ancora oggi gira senza mascherina. Sollecito il Governo a decidere misure immediate per i congedi parentali e i bonus babysitter. Per il resto, conclude, attendiamo di vedere e valutare le misure di ristoro economico annunciate. E parliamo ora di politica. Gli attuali consiglieri provinciali potrebbero restare in carica fino per altri due mesi. ipotesi di rinvio delle elezioni provinciali in tutta Italia al vaglio del Consiglio dei Ministri in queste ore. Vediamo. Le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali potrebbero slittare. L'emergenza Covid ancora una volta impone un'attenta riflessione sulla possibilità o meno di svolgere regolarmente le attività elettorali seppur per ciò che riguarda la provincia è un evento che interessa soltanto sindaci e consiglieri comunali chiamati a scegliere i rappresentanti in seno all'ente. La decisione definitiva ed ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore con il rinvio della tornata elettorale che potrebbe avvenire per tutte le province interessate nella prossima primavera quando, si spera, l'emergenza epidemiologica sia superata e lo svolgimento della tornata elettorale può avvenire regolarmente. La richiesta arriva con emendamento al decreto legge del 7 ottobre scorso proposto dalla senatrice Valente in discussione nella Commissione Affari Istituzionali del Senato in cui si fa esplicito riferimento proprio alle elezioni provinciali di secondo livello. Il rinvio era stato già ipotizzato ed inserito nel decreto che però, proprio sul punto, è stato poi modificato. Immediatamente è stato riproposto per l'inserimento. Il rinvio potrebbe essere approvato già nelle prossime ore essendo al momento anche al vaglio del Consiglio dei Ministri che a breve potrebbe pronunciarsi. Il posticipo della data, che pare sia fissata al 28 marzo prossimo interesserebbe tutti i consigli provinciali e l'urgenza è motivata dalla data, ormai prossima, delle elezioni di alcuni consigli provinciali tra cui Avellino, che dovrebbe votare il 13 dicembre. Se il rinvio viene confermato, l'attuale Consiglio provinciale di Salerno resterà in carica per due mesi in più rispetto alla naturale scadenza. Consiglieri comunali e sindaci salernitani sarebbero stati chiamati al voto nei primi giorni di febbraio. Ora tutto potrebbe slittare. Ci spostiamo ora a Buonabitacolo dove l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giancarlo Guercio ha incontrato i commercianti che chiedono di restare aperti fino alle ore 20 e non fino alle 18 come previsto nell'ordinanza sindacale. Il sindaco chiede pazienza. Vediamo. L'amministrazione comunale di Buonabitacolo continua a monitorare la situazione Covid sul territorio dopo i numerosi casi di positività registrati nei giorni scorsi e la necessità di emanare due ordinanze restrittive con lo scopo di contenere il diffondersi del virus. Ieri l'amministrazione guidata da Giancarlo Guercio ha incontrato una delegazione di commercianti categoria alle prese con l'obbligo di chiusura alle 18 così come da ordinanza. Un incontro scaturito dalla richiesta degli operatori commerciali di mantenere invece i negozi aperti fino alle 20 richieste che il primo cittadino ha definito sacrosante facendo le sue, affermando però che la salute dei cittadini prevale su tutto. Durante l'incontro dunque sono emersa importanti riflessioni sui temi del lavoro, del diritto all'esercizio delle proprie attività, del principio della salute e dell'obbligo di tutelarla. Il sindaco Guercio ha chiesto ai commercianti la pazienza di attendere qualche giorno per monitorare la situazione dei contagi in quanto siamo nel bel mezzo di una pandemia, ha detto, ed è mio dovere tutelare la salute di tutti. Il primo cittadino ha poi spiegato che la scelta di chiudere alle 18 insieme con le altre restrizioni previste dall'ordinanza è stata fatta a seguito di ampia interlocuzione con i dirigenti dell'ASL e con la prefettura di Salerno. Nel ringraziare gli operatori economici per il loro comportamento e incommiabile, l'amministrazione comunale ha ricordato che nei prossimi giorni si osserverà l'andamento del virus per capire come sta evolvendo sul territorio e quindi quali misure adottare. E parliamo ancora di commercio ma a livello generale perché il nuovo DPCM risulta l'ennesima ammazzata a colori sulle spalle degli esercenti commerciali e quanto afferma la Confesercenti Salerno che chiede sostegno e risorse per le piccole e medie imprese. Risposte alle imprese e alle famiglie attraverso risorse è una politica vera del sostegno e quanto chiede Confesercenti Salerno dopo l'ultimo DPCM del governo definito l'ennesima ammazzata a colori sulle spalle degli esercenti. Pagano sempre gli stessi pubblici esercizi, si legge in una nota, piccole imprese storiche e familiari, ambulanti e partite IVA. L'economia reale è ferma ed è in forte recessione. Tante imprese di tutti i settori sono già al limite perché la fiducia nel futuro è sempre più in calo. Confesercenti lancia un appello allo Stato affinché nessuno sia lasciato indietro e affinché ci siano sostegni per le piccole e medie imprese, gli esercenti di tutti i settori che rappresentano la spina dorsale del nostro paese. Si chiede un poderoso piano socio-economico e una linea di credito dedicata, sostenibile e solidale a tasso zero per le piccole imprese totalmente rigarantiti dallo Stato e per un periodo minimo di 10 anni. Misure considerate un vero e chiaro segnale di nuova fiducia nel futuro. Come ha già spiegato e ribadito il presidente regionale della Confesercenti Schiavo e ancora di più rimarcato dal presidente provinciale di Salerno Raffaele Sposito è una mazzata alle imprese ai piccoli esercenti dell'intera regione Campania e sicuramente anche del territorio del Vallo di Diano. Oggi con voce alta gridiamo che le misure che sono state poste in essere prima nel decreto Curitalia poi nel decreto Rilangio nel decreto Liquidità e ora nel decreto Ristori devono essere delle misure rapide. Noi invochiamo alla zero burocrazia. Perché? Perché noi ci ritroviamo con delle imprese che vogliono semplicemente lavorare ma che sicuramente per la priorità che noi dobbiamo dare alla salute e noi per prima diciamo che la salute deve essere tutelata si ritrovano a subire queste restrizioni queste restrizioni che poi non corrispondono a delle misure adeguate al loro sostegno. E ancora di più noi continuiamo a parlare di sostegno economico quando dovremmo già iniziare a pensare a un piano di rilancio economico delle imprese stesse. Tutte queste misure non faranno altro che sospendere o dilungare quella che è l'agonia. Pensiamo che a gennaio le moratori sui muti scaderanno e cosa faranno queste imprese che in questi mesi non hanno potuto lavorare o comunque se hanno lavorato o non lavorato con notevole restrizioni. Quindi ribadiamo sicuramente la priorità alla salute ma invochiamo a voce alta che tutte queste misure siano rapide, concrete che diano il reale sostegno ma soprattutto iniziamo già a pensare a un rilagio dell'economia regionale e dell'economia anche del Vallo di Diano. A partire dal lunedì prossimo 9 novembre fino al 13 novembre sarà possibile la sottoscrizione di titoli di Stato BTP Futura anche presso la Banca Montepruno. Si tratta di titoli di Stato emessi in questo periodo di emergenza epidemiologica allo scopo di sostenere le spese dello Stato per l'emergenza, spese che riguardano la gestione dell'emergenza sanitaria sia per quanto riguarda il servizio sanitario nazionale che ha supporto anche di famiglie e imprese sofferenti in questo periodo di emergenza. Il titolo ha durato 8 anni con tassi che saranno definiti alla fine della sottoscrizione ma che comunque non potranno essere inferiori ai titoli minimi garantiti ai tassi minimi garantiti scusate, la sottoscrizione dei titoli prevede anche un ulteriore vantaggio è infatti stato riconosciuto ai sottoscrittori sarà infatti riconosciuto ai sottoscrittori un premio fedeltà che sarà corrisposto a quanti detengono il titolo fino alla scadenza trattandosi di un'emissione con carattere straordinario o meglio emergenziale il ministro dell'economia e delle finanze non ha posto nessun tetto massimo di emissione quindi ogni richiesta dei risparmiatori verrà soddisfatta in toto salvo facoltà da parte del ministero di chiudere anticipatamente l'emissione tutte le informazioni potranno essere richieste direttamente presso tutte le filiali della banca Montepruno e ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità torneremo tra pochissimo restate con noi bentornati alla seconda parte del nostro Tg conseguenze del covid sull'economia se l'agricoltura è in affanno il florovivaismo non va certo meglio ma capiamone di più nel prossimo servizio l'emergenza covid inizia a far sentire i suoi effetti anche sull'agricoltura salernitana tutti i settori stanno risentendo del forte impatto della pandemia secondo Coldiretti Salerno a pagare il conto più pesante il settore florovivaismo ma difficoltà sono segnalate anche per ortofrutta formaggi salumi e vino è un momento difficile anche per l'agricoltura salernitana confermano da Coldiretti Salerno le vendite in particolare di prodotti freschi dall'ortofrutta al lattiero caseario hanno ridotto notevolmente le vendite chi lavora con bar e ristoranti perde una fetta di mercato importante con le limitazioni in atto soprattutto le imprese agricole e quelle che trasformano prodotti freschi in alcuni settori come quello ittico e vitivinicolo la ristorazione rappresenta addirittura il principale canale di commercializzazione per fatturato a pesare sulle crisi anche la chiusura forzata delle menze scolastiche e le difficoltà con l'export le limitazioni economiche e il rimbalzo negativo delle vendite potrebbero farsi sentire sulla media e lunga distanza anche sui prodotti stagionati in questa fase sono meno danneggiati i prodotti stagionati salumi che possono allungare la vita in magazzino per qualche mese ma un aumento degli stock comporta sempre una distorsione dei prezzi discorso a parte merita il settore florovivaistico dove sottolinea il comitato l'impatto economico anche per la provincia di Salerno dove operano decine di imprese florovivaistiche è pesantissimo super bonus per la riqualificazione dei bordi antichi molti comuni hanno aderito tra questi anche il comune di Rocca d'Aspide vediamo i dettagli novità per Rocca d'Aspide dove il comune ha pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse da parte dei privati a sfruttare le opportunità offerte dall'eco bonus il governo infatti tramite il decreto rilancio ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica di interventi di riduzione del rischio sismico di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici ciò garantirebbe la possibilità di riqualificare e valorizzare il patrimonio del borgo e il recupero degli immobili privati suscettibili successivamente di uso turistico per questo Roccadaspide ha invitato i privati a presentare manifestazioni di interesse per la realizzazione di opere contemplate dal decreto rilancio entro il 31 dicembre in questo modo potrà essere redatto un'ipotesi di progetto di valorizzazione del centro storico cittadino e ora il nuovo appuntamento con l'agenda politica di Uno TV Mario Cirillo ci ricorda nel suo analisi come anche la politica non sia immune dal contagio e fa il punto sulla situazione in particolare tra gli amministratori locali provinciali e regionali tanti casi di positività e per quanto riguarda invece in particolare il consiglio provinciale potrebbe il rinnovo potrebbe essere lontano pronto infatti il rinvio alla primavera con la chiamata alle urne solo per sindaci e consiglieri comunali siamo con Mario Cirillo per questa nuova puntata della rubrica l'agenda politica di Uno TV Mario oggi insomma si si stanno un po' diffondendo le notizie tu lo hai anche riportato sulla tua pagina sul tuo sito di numerosi casi di contagio anche nella politica vero? eh sì insomma la politica non è immune dal covid-19 dopo il sindaco di Roma la sindaca di Roma dopo il presidente della regione Bonaccini ma prima ancora lo ricordiamo c'era stato il viceministro Sileri c'era stato il segretario nazionale del PD ad essere stato colpito dal virus il ministro della salute la Lorenzin esatto insomma un lungo elenco arrivano anche in provincia di Salerno in Campania il consigliere regionale Attilio Pierro che ieri ha comunicato insomma la sua positività al covid dicendo di essere completamente asintomatico a distanza di un paio d'ore il presidente della provincia di Salerno Michele Strianese il sindaco di San Valentino Torio che invece ha raccontato insomma di aver avuto qualche problema di salute ma sostanzialmente di stare bene e il tema sul quale riflettere è se la politica che è quella che ci dice di seguire determinati esempi e noi diamo per scontato che questi esempi vengano seguiti prima da loro e poi da altri incappa comunque in questo virus io credo che insomma il punto il problema non sia soltanto o ci stanno mentendo ma io non ho ragione di pensare conosco sia Pierro che Strianese quindi sono persone che stimo e conosco personalmente quindi il punto è siamo ad una diffusione tale del virus che forse è complicato da affermare forse quasi impossibile va gestito e le percentuali se ci fai caso anche in Europa che vanno dal 20 a salire sopra ci indicano oramai una diffusione talmente vasta sulla popolazione io so che sto dicendo una cosa che adesso susciterà la rabbia di tante persone che però io credo che andiamo verso la famosa immunità di gregge che è chiaro va anche come dire guidata ma che oggi anche con le precauzioni le mascherine il distanziamento siamo chiusi siamo aperti tu sali io scendo io entro di qua tu esci di là è una cosa la natura credo che sia difficile da fermare in questo caso anche perché ricordiamo molti sono proprio asintomatici quindi insomma non è neanche facile poter individuare la persona che è portatrice del virus proprio perché la stessa persona magari è inconsapevole spesso di sì c'è un assessore a Ponte Cagnano c'è il sindaco di Ponte Cagnano che è in isolamento c'è l'aggiunta di Baronissi che è in isolamento dopo il caso di un assessore anche lui asintomatico e quindi stiamo parlando di persone che danno l'esempio seguono l'esempio ecco sono delle persone che ovviamente sono molto attente ma ripeto io credo che siamo insomma più che davanti a uno tsunami come qualcuno dice poi non sono un virologo però guardo i numeri siamo dinanzi alla diffusione come dire a tappeto ecco del virus che dimostra di essere pericoloso per quelle persone tante purtroppo che hanno qualche serio problema di salute quindi a loro va la nostra attenzione deve andare alla nostra attenzione massima massima quindi diciamo che dobbiamo più che altro essere attenti nella tutela insomma delle persone fragili di chi ha assolutamente comunque sta già combattendo magari qualche battaglia poi peraltro insomma ricordiamoci anche il problema del servizio sanitario insomma è comunque a mezzo servizio lo possiamo dire tranquillamente assolutamente però in questa fase voglio fare questo inciso se me lo consenti nessuno ha pensato al potenziamento dei servizi sociali ieri ho intervistato il sindaco di Pagani il sindaco di Pagani Lello De Prisco mi ha detto io ho sul territorio 350 persone positive al 99% sono asintomatiche sono in casa stando in casa ovviamente questo comporta l'isolamento non soltanto della persona contagiata ma anche del nucleo familiare quindi se si fa una media di 4 persone per ogni nucleo familiare stiamo parlando di qualcosa come 1500 1300 1500 persone stiamo parlando di persone che per legge non possono uscire non possono fare la spesa non possono comprare dei farmaci non possono avere contatto con nessun altro se non all'interno del proprio nucleo familiare si è pensato a livello nazionale a livello regionale a potenziare la macchina della protezione civile cioè queste persone chi le assiste non soltanto sotto il profilo sanitario ma anche il profilo concreto cioè sono persone che dicono ok io faccio la spesa online perfetto chi me la porta chi me la consegna ho bisogno di un farmaco lo ordino lo pago chi me lo consegna allora andava andava prevista il potenziamento della macchina sanitaria e un potenziamento una diffusione capillare della macchina della protezione civile che non può essere soltanto quella che si mette con la paletta quando ci sono le sagre e dice tu qui non puoi parcheggiare no allora la protezione civile se è quella lasciamola stare la può fare anche il nonno vigile protezione civile è altro e probabilmente andava fatto questo sicuramente sì insomma ci volevano una maggiore organizzazione anche perché era nell'aria si sapeva lo avevano più volte annunciato questo ritorno dell'emergenza quindi insomma sono in ritardo in questo lo stanno dicendo tutti eh sì vabbè vogliamo parlare di una bella notizia eh sì una bella notizia è che non si fanno le provinciali dai non è detto ancora che sono che sono delle elezioni che voglio dire a parte per i non addetti ai lavori non servono esattamente a niente perché sono il chiaro esempio di come la politica si parli addosso cioè il consigliere provinciale viene eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali si chiama elezione di secondo livello in realtà è una grandissima forzatura di un sistema democratico che ha mantenuto in piedi le province le ha svuotate di funzioni le ha svuotate di soldi però dice beh però bisogna avere il presidente beh però bisogna avere il consiglio provinciale quindi tutto questo tutto quello che era prima partecipazione territori i collegi ricordano tutti quanti in provincia di Salerno c'era la famosa delimitazione a 28 collegi dove c'era una campagna elettorale vera perché si parlava davvero di problemi del territorio adesso viene meno c'è un elenco vanno a votare dovrebbero votare il 28 di marzo del 2021 perché sono state rinviate al prossimo anno tutte sia quelle a dicembre che quelle a gennaio spostate a marzo ma a votare sono loro quindi una campagna elettorale che si fa all'interno dei comuni con telefonate accordi sotto banco e il popolo guarda dice ok il consigliere provinciale del mio territorio ma chi lo ha eletto? boh presidente ma chi lo ha eletto? boh andiamo avanti anche su questo vorrei chiedere un po' un tuo parere le province hanno forse ancora di più adesso si sente la mancanza di questo di questo organo che riusciva veramente ad essere forse prima collante tra i piccoli territori e le grandi i grandi enti insomma parliamo anche di governo non è soltanto il raccordo Anna Maria il problema è e voi lo sapete benissimo nelle vostre nelle vostre zone che le province hanno ancora oggi la competenza per quanto riguarda la viabilità e per quanto riguarda le scuole stiamo parlando di una provincia di un milione e passa di abitanti con un'estensione chilometrica enorme dove c'è una differenza profonda tra Sapri e Scafati perché sono due mondi completamente diversi ma fanno parte della stessa provincia ebbene la provincia deve curare tutti gli istituti superiori quindi la manutenzione deve intervenire per quanto riguarda la viabilità sulle strade provinciali e voi avete idea di quanti siano i chilometri di strade provinciali in provincia di Salerno cioè non parliamo della provincia di Lodi e lo deve fare con meno soldi rispetto a prima e con una macchina burocratica che si è restretta a questo aggiunge il ruolo marginale della politica che mentre prima poteva come dire fare pressione giustamente in maniera legittima per un territorio e chiedere un intervento per quel territorio oggi invece si limita il consiglio provinciale a prendere atto delle decisioni del presidente organo monocratico il quale approva i bilanci da solo da solo approva e comunica cioè lui approva e poi fa una presa d'atto i consiglieri fanno una presa d'atto allora o la fai funzionare e la rendi democraticamente viva cioè ritorniamo al voto diretto del popolo per scegliere i consiglieri provinciali e il presidente della provincia oppure a questo punto elimina la componente politica lascia solo la parte burocratica e fai un doppione delle prefetture dove le prefetture si occupano di altro e a questa prefettura bis trattino provincia fai svolgere funzioni che riguardano la viabilità e che riguardano le scuole e togli di mezzo la presa in giro della componente politica la quale si limita a verbalizzare cioè sono dei semplici notai effettivamente sì insomma serve un nuovo ruolo per l'ente provincia bene per oggi chiudiamo sì devo fare una cosa devo salutare un amico che mi ha chiesto un saluto vive nelle vostre zone e che quotidianamente mi chiede ma allora zone gialle zone rosse zone verdi o che faccio Sergio Annunziata ah ok Sergio Annunziata è il quale continua a lavorare con le sue pompe ad Atena Lucana però mi ha chiesto insomma non ti preoccupare Sergio ti saluto e ti faccio un in bocca al lupo per l'attività perché lui è disperato giustamente sì perché con l'area di servizio sull'autostrada insomma sono dimenticati devono lavorare ma comunque lavorano a mezzo servizio e sono un po' dimenticati è proprio una piccolissima cosa che nessuno a cui nessuno pensa noi quando eravamo piccoli guardavamo il portafoglio del benzinaio immaginavamo da grande voglio fare il benzinaio perché non sapevamo che di quei soldi lo 0,2 resta nelle tasche del titolare del distributore di benzina ebbene oggi il governo sta immaginando un ristoro a favore di questo settore non sul guadagno ma sul fatturato immaginate che se io fatturo 5 milioni di euro guadagno effettivamente intorno ai forse 20-30 mila euro quindi il mio guadagno è minimo e però siccome è molto alto il fatturato non ho diritto a rientrare nel decreto ristoro forza Sergio vai avanti con le pompe non ti preoccupare un forza a tutti i benzinai assolutamente facciamo Sergio insomma lo prendiamo a simbolo come rappresentante ok lo abbiamo letto come rappresentante grazie Mario grazie a voi un abbraccio forte a domani ed era questo l'ultimo servizio di oggi io vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti